Buongiorno ragazzi, questo è un brevissimo tutorial per imparare come gestire l'utilizzo di Circuitverse che è un fantastico simulatore digitale disponibile gratuitamente e che quindi noi utilizzeremo moltissimo. Prima cosa, bisogna andare su circuitverse.org, vi trovate qui. Allora, è necessario fare il login, cioè registrarsi, perché se non vi registrate non potete condividere con me poi i circuiti, quindi va fatto, cliccate sul login, arriverete qua, io sono già registrato, quindi mi compare tutto già compilato, ma voi fate sign up, sign up che è scritto qua, che significa registrazione, e iniziate a scrivere i vostri dati e registratevi con la mail dell'istituto, quindi di vittorio lattanzio.edu.it e password, quella che volete voi. Non sono un robot e fate sign up. Una volta fatto non dovete neanche confermare la mail, andate direttamente sul login. Io sono, come ho detto, già registrato con un'altra mail, per cui utilizzerò questa. login, e vi ritrovate qui. Qui, diciamo, ci sono tantissime cose che potreste fare, per esempio voi potete cliccare su contributors, e per esempio se siete studenti ci sono tantissime risorse per imparare. Comunque, noi utilizzeremo principalmente simulator, simulator è l'ambiente di simulazione, qua vi trovate in un ambiente di simulazione in cui avete sostanzialmente a sinistra tutti gli elementi circuitali da inserire. Proviamo a fare un circuitino banalissimo, tanto per provare, con un ingresso digitale, una porta NOT, che la mettiamo qui, e un'uscita, per esempio un'uscita digitale o anche un'uscita LED. Per collegare basta lasciare spinto e connettere, e l'uscita la portiamo sia sull'output digitale che sul LED. La simulazione parte da sola, quindi agendo su 0 e 1 questo ingresso digitale vedete che il NOT fa il suo lavoro, cioè inverte il segnale in ingresso, e quindi quando c'è 0 in ingresso in uscita si accende il LED e l'uscita è 1. Allora, qua questi circuiti impareremo a farli poi con calma, però quello che mi preme è di farvi capire come poterlo condividere con me. Per farlo dovete fare una cosa, cioè spingere qui sulla nuvoletta che è Save Online. Spingendo su Save Online vi chiede il nome del progetto. Dategli, se per esempio questo è un compito, dategli lo stesso nome che c'è su Classroom, per esempio compiti del 1.12. Fate ok, aspettate un attimo, e qui vi dà una serie di dati del progetto che potete modificare, ma in realtà non serve nulla. Basta andare avanti e fare Update Project. E adesso vedete che il vostro progetto è salvato ed è pubblico, ok? Quindi ci può accedere chiunque. E in particolare dovreste farmi accedere a me. Quindi che cosa fate? Andate qua sulla barra degli indirizzi, copiate facendo CTRL-C oppure facendo Copia, qui. Dopodiché tornate su Classroom, io adesso non ce l'ho aperto, quindi non ci posso andare, ma sotto al compito che vi ho assegnato, come risposta mi incollate questo codice, quindi fate tasto destro, incolla, ok? Su Classroom. Poi condividete, e in questo modo io, aprendo quel file, quel link, posso andare qui e posso giocare col vostro progetto. Quindi posso verificare se tutto funziona, ok? Io qua non posso modificare, ma posso farlo funzionare. Allora, questo è tutto. Poi impareremo a usarlo insieme. Grazie e buona giornata.